Sì, ma tu te la puoi immaginare la faccia che fanno mamma e papà? Sì, e poi che succede? Che succede? Succede che si accorgono che siamo speciali. Magari ci dicono, ma voi che ci fate a Napoli? Ecco un biglietto per Londra, solo andate, voi là che vi dovete trasferir. È là che farete fortuna. Eh sì, e là stanno aspettando a noi. Dobbiamo fare impazzire tutti, ti dì? E come del resto si impazziscono qua, eh. E quando ci guardano ci devono dire, ma voi che ci fate qua? Come siete usciti che siete così particolari? Eh, è noi là che ci dobbiamo inventare una storia, mica possiamo dire la verità. E ma che storia? Ah, la storia, ti dì, ma usavi tutto tu. Salvatore, secondo me ti sei mangiato troppi franco bolle. Ma ma che ti dì, non ci credi? Guarda che se non ci credi poi restiamo a Napoli per sempre, veramente, eh. Tu ci devi credere, ti dì. Eh papà. Allora ci credo. No. Allora ci credo.